Siamo all'ultimo del secondo gruppo, qua siamo nel giusto. Ora devi dire tu chi è però. Mango. Mango. Mango! Tu sì. Allora, Mango infatti ci canta Tu sì, dobbiamo dire naturalmente chi sono gli autori. Bacio. Bacio e gli autori, mi hai fatto emozionare. No, lo dico io, lo dico io. Era così tranquillo. Allora, lo dico io chi sono gli autori. Sono Mango stesso e tuo fratello, quindi di Mango e Mango. Dirige l'orchestra Giuseppe Vessicchio in Tu sì, canta Mango. Di nuovo cosa c'è dentro la mia vita? Dove finisce la pioggia, cominci tu. La sabbia come te scotta fra le dita, e nella storia infinita ci sei di più. Tu, perduto un po' così, in questo secolo ti amo, perduto come te. Tu sì, ardito affetto mio, tu sì, ci ha messo il cuore Dio. Vivi la vita, vivi la vita, vivi in me, pioggia di marzo leggerà, dimmi che vita vuoi perdere, a quale sorgete potere. Cogli la vita, vivi in me, pioggia di marzo leggerà, dimmi che vita vuoi perdere, a quale sorgete potere, a quale sorgete potere. Cogli la vita, vivi in me, pioggia di marzo leggerà, dimmi che vita vuoi perdere, a quale sorgete potere. Tu sì, ardito affetto mio, tu sì, ci ha messo il cuore Dio. Cogli la vita, vivi in me, pioggia di marzo leggerà, dimmi che vita vuoi perdere, a quale sorgete potere. Cogli la vita, vivi in me, pioggia di marzo leggerà, dimmi che vita vuoi perdere, a quale sorgete potere. Grazie, grazie mille. Buonasera a tutti. Grazie anche a voi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Abbiamo toccato...